L'antica chiesa di Santa Maria Nova cambia volto e diventa nuovo spazio espositivo per mostre ed eventi culturali. Da ex deposito di documenti dell'intendenza di finanza, lo spazio acquisito e restaurato per volontà di Luciano Benetton apre le sue porte per il suo primo evento pubblico grazie ad un progetto di Tobias Carpa. Primo passo del recupero del nuovo complesso che Benetton ha acquisito dopo l'ex tribunale e le antiche carceri asburgiche. Il nuovo spazio museale per volere del mecenate trevigiano è intitolato a Carlo e Tobia Scarpa, un privilegio che ha in parte colto alla sprovvista l'architetto. Non è che non mi sento degno, è che tutto sommato è improvvido. In genere queste robe qua dovrebbero essere prodotti per i morti, non per i vivi. I vivi fanno, fanno che cosa se ne fregano delle cose. Sì, beo, beo, sì, è bello, ho fatto bene, sono bravo a fare le cose giuste. È il mio mestiere. A Cascarpa è dedicata una mostra fotografica a Cappadocia, il paesaggio nel grembo della roccia. Dopo che il comitato scientifico della fondazione Benetton studi ricerche ha deciso di dedicare la 31esima edizione del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino. A questo luogo dell'Asia minore e in particolare alle due valli contigue scavate nella roccia vulcanica, quella delle Rose e la Valle Rossa. Un luogo arido, eroso dall'acqua e dal vento. Sono abitazioni rurali, sono edifici religiosi, monasteri. Dentro, diciamo, questo mondo, nel buio della roccia, è uno dei temi poi del premio della nostra mostra, si verifica poi una cosa stupefacente che è l'espressione artistica che soprattutto nasce con il primo cristianesimo, che nasce con l'arte, che è la pittura che riveste in forma, diciamo, straordinariamente continuativa tutti gli spazi, tutti gli interni di queste rocce, di questi edifici che poi vengono scavati, diciamo, pure in negativo. La fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso consegnerà il sigillo del premio Carlo Scarpa a Maria Andaloro, che in questo contesto opera dal 2006 con una missione italiana nata all'interno dell'Università della Tuscia, allo scopo di recuperare gli antichi cicli dipinti presenti nelle valli.